Vaffanculo Crodone Eh ma adesso il crotone è a meno 6 La vedo difficile Oh cazzo No ragazzi subito mi ha fatto fuori Su qua Dardo dardo Attento Jack 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 Attento che questi qua sono Minca col palino mi ha fatto fuori in un secondo Ma sicuro che i palindromo sono forti cazzo A me mi ha fatto fuori di brutto cazzo Ma mi ha spaccato su qua Ma spaccato non me lo aspettavo cazzo Ma hanno spaccato Stiamo attenti Stiamo dentro va Però è difficile anche sordi No basta Ma dove era Che palle Si rampate le porte Che gioco di merda Attento Jack 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 Poco riso Ma che cazzo di riso è Ma è poco poco Non mi piace il riso Proprio in generale Qualsiasi riso Può che sia il riso più buono al mondo Ma che è ricco Quando fai tante kill No ragazzi sto morendo ragazzi Sono one c'è tuttissimo ragazzi Morirò malissimo Che coglione Che coglione Eh oh ero one shot Jack Dove è scusa Attento attento Jack Jack Oh cazzo Da granata di me Sono questo C'è tutti i sluggi nemici Tutti e tre nemici No Dove cazzo Sono proprio scemo Sono proprio scemo Sono proprio scemo C'evo il palo davanti Non vedevo lui che cecchinava C'evo il palo davanti Il pali Quelli che ci sono Sti pali di merda E lì C'è un puttanaio di rucci Sembra la via tipurtina Yami yami Buono Yami yami State attenti Perché sti qua Con il palindromo Oddio Cosa Hai visto che ha fatto Si ho visto Cos'è Siete fatidato Però l'homosessuale E io la dico Minchia che palle Enrico Madonna che palle Chi è Chi è Ah no Ah no Ah no E non Vabbè Eh non posso venire C'è il volto Come cazzo faccio Come cazzo faccio il volto Aspetta dove No un'altra bomba Che culo L'ha filata Madonna Oddio 3 super in un round Non ci posso credere Oh ragazzi Ma come si fa 3 fail ragazzi Che scanna A me è failatissimo Oddio 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 Come usa ergo a fuori come si intetta bella? No muoio muoio raga muoio Do me do me, stai su rest, do me stai su rest Oddio cosa sta succedendo? Oddio cosa è successo? Stiamo laggando come la merda ragazzi Stiamo laggando come la merda ragazzi Stai visto o no? No ce la troverà Uno Wanshottissimo Munizioni pesanti disponibili Non è morto? Eh? No mi ha preso ragazzi dai Wanshott Ok bravo Jack Cioè l'ha concentrato solo su di me Ce l'avate voi vicino ma ha preso a me Oh sulle pesanti che stronzo Ero primo Moro io una volta Terzo Eh fottuto qualche kill a me Probabilmente avrei fottuto qualche kill sicuro Freccio di chi? Freccio di chi? Che cazzo fai Jack? Sotto i radi Chi sei re Hahahaha '' Buuuu